E' passato un anno dalla sconfitta del trucco in armatura d'oro Krauser e i nostri amici Terry, Andy, Mai e Joe si ritrovano in occasione del solito torneo di arti marziali. Ad arricchire questa allegra combriccola c'è perfino Kim, quello che le aveva buscate da Terry nel film precedente, stavolta con famiglia al seguito. Ma la gioviale allegria del gruppetto deve ben presto lasciare spazio ad un'atmosfera assai più pesante. Non perché qualcuno abbia mangiato l'aglio è poi ruttato, ma perché arriva un brutto energumeno che indossa una specie di maschera tipo joypad di qualche demoniaca console e Kim, che vuole dimostrare al figlio quanto è forte suo padre, decide di affrontarlo e noi scopriamo che il lottatore, molto astutamente, sotto al vestito elegante, indossava camice gilet e ancora più sotto la tuta da combattimento. Vabbè. Oltre a non essere capace di vestirsi, Kim non fa proprio la bella figura che sperava e finisce mazzulato ben benino. Poi però, spronato dal figlioletto, ritrova la sua forza e riesce a restituirla al mostro, abbattendolo. A questo punto si presenta Sulia, una ragazza che chiede aiuto a Terry perché lui è più fico nelle arti marziali, anche se a me stava più simpatico Gioigashi. Comunque sembra che un pericoloso tizio di nome Laoko On stia andando in giro per il pianeta a recuperare pezzi di una divina armatura e per la seconda volta abbiamo quella sensazione di déjà vu. Comunque non importa, perché Laoko On è pronto a tutto pur di recuperare l'intera armatura, anche massacrare chiunque gli si pari davanti, senza differenza fra chi vuole fermarlo o innocenti lavoratori igneri di tutto. Allora i nostri amici, incuriositi dal soggetto, decidono di andare con Sulia sull'isola di Rodi e Terry, che ha studiato geografia col Cepu, non sa manco dov'è. Quando solo sul posto, Sulia vuota il sacco e ci spiega l'origine e i poteri devastanti dell'armatura, aggiungendo che il tizio che la sta cercando è suo fratello gemello. In quanto discendenti dal mistico re di Rodi Godamas, entrambi hanno poteri, lei curativi e lui distruttivi. Inoltre se Laoko On dovesse raccogliere tutti e sei i pezzi dell'armatura, diventerebbe forte come Marte, il dio della guerra. Insomma, va fermato subito. E in tutto questo, Gioigashi, chissà perché indossa degli slipini imbarazzanti. I nostri si divideranno per trovare i pezzi dell'armatura prima del malvagio Laoko On. E Sulia, oltre a voler fermare suo fratello, sembrerebbe interessata anche a qualcos'altro. Eh, golosona. A proposito di cose golose, io mi son beccato mai Shiranui nuda sotto la doccia. Ma a voi non ve la faccio vedere, gne 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 gne. Comunque lei non aspetta altro che Andy le zompi addosso, ma lui le flessioni preferisce farle nel modo classico, da solo sul pavimento. Vabbè. La ricerca viene subito interrotta da Laoko On e Terry dovrà vedersela prima con uno dei suoi scagnozzi più grossi, Jammin, e poi con lui in persona, che ovviamente lo riempie di mazzate senza dargli manco il tempo di dire beh. Allora Sulia si mette in mezzo e Terry ha così il tempo di raccogliere l'energia e sparare una power wave. Solo che alla fine della grande esplosione non vi è più traccia né di lui né di Sulia, mentre il cattivone Laoko On è ancora lì bello fresco. Boh. Mentre suo fratello viene massacrato e apparentemente polverizzato, Andy ha spassarsela bello tranquillo in discoteca con Mai, dove rincontrano perfino il vecchio porco del maestro Giubei e l'huligan del primo film di cui non ricordo il nome, mi pare Billy, boh. Il tutto condito anche dall'inutile comparsata di una nostra vecchia conoscenza, così gratuitamente. Terry e Sulia però non sono scomparsi. Si sono salvati e anche se Terry è messo male, lei può guarirlo. Raggiunta la Cina, Mai Shiranui si è vestita come una cinese baldracca proprietaria di un bordello e forse per questo viene attaccata dal misterioso Hauer, scagnozzo di Laoko On. I due ovviamente combatteranno e Mai userà una mossa che si chiama Kako Sen. Oh, si chiama così. E più lo scontro continua, più il suo vestito si fa succinto e le sue tette sempre più enormi. Comunque alla fine viene ovviamente catturata da Hauer. Andy cercherà di liberarla ma finisce appeso al muro, poi Hauer tenta di baciarla, così Andy si incazza ma non si capisce poi che succede e sembra che Andy abbia perso. Nel frattempo un'altra sottoposta di Laoko On, Parmi, si è diretta al castello di Krauser dove si scontrerà con Blood, che fra l'altro è vestito con una camicetta leggera ma quando la toglie sotto ha la tuta da combattimento con tanto di coprispalle. Magia! Era un prestidigitatore questo qua evidentemente. Comunque, magici trucchetti o no, Parmi lo sconfigge con la sua megamossa, maremoto di Nettuno. A Laoko On ormai manca solo un pezzo dell'armatura, ma la chiave per trovarlo, a quanto pare, è il medaglione in possesso di Sulla. Si parte quindi per Israele, ma gli scagnozzi di Laoko On li hanno seguiti e dopo che hanno sistemato Terry e Joe, Sulla decide di andare con loro per farli stare buoni. Però non funziona perché Hauer e Parmi vogliono comunque uccidere Mai, ma arriva Andy più incazzato che Mai, scusate il gioco di parole, che parcheggia le mani in faccia al primo, mentre la seconda si becca una mega gomitata fra le tette. Laoko On nel frattempo entra in possesso dell'ultimo pezzo dell'armatura. I nostri lo raggiungono e Terry dovrà superare di nuovo Jammin, per poi arrivare al cospetto del cattivo e tuttavia non riuscire ad impedirgli la trasformazione nel dio della guerra. E devo dire che la forma finale di questa armatura mi sembra alquanto imbarazzante, comunque vabbè. Ovviamente Laoko On è praticamente invincibile e massacra il povero Terry. Arrivano però tutti i suoi amici a dargli manforte, ma non è che riescono a fare molto, ovviamente lui è troppo potente anche per loro messi insieme. E durante questa sostenuta battaglia Mai chiede a Andy di sposarlo, vabbè, ma trovare momenti un po' più tranquilli no, eh. Sully allora si autopugnala una tetta perché ha capito, non si sa come, che così indebolirà il fratello e in punto di morte confesserà a Terry l'amore che prova per lui. Insomma, mentre un dio impazzito cerca di ammazzare tutti, questi due piccioncini si scambiano parole d'amore per qualche minuto buono. Poi però non resta altro da fare che asciugarsi la lacrima di commozione e approfittare della debolezza di Laoko On per colpirlo al petto, facendo sparire l'armatura e lasciandolo nudo e inerme. È tempo per il discorso struggente parte seconda, dove anche Terry, così all'improvviso, confessa a Sully di contraccambiare i suoi sentimenti. Scatta anche il bacio, ma dai pezzi dell'armatura prende forma lo spirito di Godamas, che si era servito di Laoko On per tornare in vita. Un essere fiammeggiante e super cattivo, che con molta riconoscenza disintegra Laoko On. Vabbè. Allora Terry, che si è rotto i coglioni ed è incazzato come una bestia per la morte di Sully, gli spara una mega super iper ultra power wave e il mostro fiammeggiante si vaporizza. Tutto è finito, il mondo è salvo e ai nostri amici non resta altro da fare che tornare a casa. Fine.